Abbiamo subito una grandinata appunto nell'appezzamento che abbiamo in pieno campo e la sensazione è stata quella davvero di impotenza perché avevamo già il prodotto quasi pronto per essere raccolto e nel giro di cinque minuti siamo andati là e non c'era più assolutamente niente le piante erano tutte rovinate il peperone era rotto dopo la grandinata lo stato d'animo era pessimo però si reagisce subito e si va più agguerriti di prima e si cerca di fare ancora di più